Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Oka Stinson 7, una scarpa door to trail veramente enorme con un'intersuola altissimo. Adesso ne vediamo insieme pregi e difetti all'interno dell'arcensione completa. Iniziamo come solito a qualche caratteristica tecnica fornita direttamente dalla casa. Queste Stinson 7 hanno una suola proprietaria Oka, un'intersuola con un drop di 5 mm che pensate nella parte posteriore alto 44 mm, una domaia in mesh tecnico e il tutto per un peso di 365 grammi nella taglia 42 uomo. Adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Stinson 7. Come vi dicevo è una suola proprietaria Oka, è una suola pensata per il door to trail, vuol dire una suola pensata per correre dall'asfalto al trail. È pensata particolarmente poi per tutto quel trail, come dire, molto semplice. Il trail dove possiamo trovare strade bianche, fondo ben battuto, non è sicuramente una suola che ha un grip sul fango, lì veramente ve la sconsiglio, roccia ve la sconsiglio perché ha pochissimo grip e poi vedremo che particolarmente poi sul tecnico non è proprio il suo ambiente ideale. Il suo terreno ideale alla fine è proprio del terreno semplice, quindi quello che può essere asfalto e collinare, montagna direi abbastanza poca. Continuiamo, passiamo a parlare dell'intersuola. Come vi dicevo qui troviamo un'intersuola altissimo, pensate parliamo di quasi 4,5 cm nel tallone. Questo li comporta di avere un'ammortizzazione massima. Veramente io non penso di aver mai trovato una scarpa così ammortizzante, proprio perché di materiale ce n'è tantissimo. Questo è un pregio perché veramente ci permette di avere un'ammortizzazione anche per quelle persone più pesanti che hanno una tecnica di corsa magari non così ottima, ma è anche diciamo uno svantaggio perché comunque non possiamo correre con questa scarpa a dei ritmi molto elevati. Ti agli assicuro che quando già andate a 5 al chilometro lo sentite che la scarpa pesa 365 grammi. Tendenzialmente con questa scarpa vi direi di stare sui 5,30 anche 6, ma anche di più al chilometro per uscire a sfruttarla bene. È una scarpa a voi che con questi 4,5 cm non è che sia neanche tanto stabile. Oka ci mette una pezza perché all'interno ha messo una tecnologia che aiuta a tenerla stabile, ma poi lo vediamo quando parliamo del tallone che fa ma non fa così tanto. A livello di tomaia qui troviamo una tomaia in mesh tecnico con un bel puntale, un bel puntale abbastanza rinforzato che comunque se dovessimo prendere dentro qualche radice non sentiamo nessun dolore alla punta dei piedi. Una tomaia molto traspirante, ben avvolgente, davvero una tomaia classica comunque di tante altre scarpe Oka che mi è piaciuta, devo dire una tomaia veramente ben fatta. Arrivando a parlare del tallone, qui troviamo un tallone classico, bello strutturato in una parte inferiore che si destruttura pian piano che si arriva sul collare, con una bella pinna posteriore per andare a proteggerci anche il tallone d'Achille. Per quanto riguarda la stabilità, bene, la tecnologia H-Frame che ha messo Oka, che ci aiuta un pochino a tenerci in strada, però comunque ragazzi parliamo di una scarpa che è alta, 4,5 cm, che è pesante, bella, grossa, e diciamo che se iniziate ad andare a farci della roba tecnica, la possibilità di prendersi delle storte è veramente molto alta. Il tecnico veramente ve lo sconsiglio. Per quanto riguarda invece linguette lacci, abbastanza classici, soprattutto la linguetta, veramente semplice e ben imbottita, che svolge un ottimo lavoro. Lacci fatti molto bene, in generale anche loro stringono molto bene la scarpa, quindi un comparto linguetta e lacci abbastanza classico. A livello di soletta, qui troviamo una soletta proprietaria di Oka riciclata, devo dire che io mi ci sono trovato bene, volendo si può cambiare, ma io andrei avanti a utilizzare quella data in dotazione. A livello di spazio sull'avampiede, devo dire che di spazio ce n'è. Non è una scarpa prettamente wide, però sicuramente più ampia di una comune scarpa da trail o da corsa che possano trovare, quindi sicuramente di spazio sull'avampiede ce n'è. Ma arriviamo al punto sicuramente più interessante. A chi consiglio queste scarpe? Queste scarpe le consiglio a un pubblico di persone medio-pesanti, persone che pesano anche 80, 90, 100 kg, persone che stanno cercando una scarpa che gli ammortizzi tanto, persone che corrono comunque molto lento, come dicevo 5,30 secondo me è già tanto per correrci con queste scarpe, sicuramente poi delle persone che vanno a correre su terreni molto semplici, come dicevo asfalto, strada bianca, collinare o single track. Evitate tutto quello che è la possibilità di fare della roba tecnica. E come distanza? Beh, volendoli possiamo veramente farci anche delle distanze lunghissime, perché di intersuola, di ammortizzazione ce n'è. Arriviamo dunque alle conclusioni parlando del prezzo. Queste Oka Stinson vengono vendute a 180 euro sul sito Oka, ondali si trova sui 120, 130. Ve le consiglio? Sì, sì perché secondo me questa è la scarpa perfetta da utilizzare nel periodo invernale, quando dobbiamo magari fare quei lunghi lenti, dobbiamo stare fuori tante ore, quando vogliamo avere una scarpa bella riposante, che non ci affatichi il piede. Sì, assolutamente questa secondo me è un'ottima scarpa, ed è un'ottima scarpa anche per chi magari pesa un pochino e vuole comunque approcciarsi al trail con una scarpa door to trail, quindi personalmente mi ha convinto. E detto ciao ragazzi, in una speranza di essere stato esauriente e testo estivo, anche per questa recensione vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!